no 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 non voglio sentire cazzi e mazzi di ogni tipo di livello possibile come per esempio ehi allora se adesso ci fosse un presidente della repubblica di destra ok sicuramente sarebbe moderato e andrebbe a difendere il presidente del consiglio dei ministri chiunque sia presidente del consiglio anche di sinistra sento questo un giro si sente questo a bestia voi ma ragazzi e attivate la campanella sotto e iscrivetevi sempre a bestia se volete super grazie qua sotto per ogni per ogni sostegno possibile al canale ma anche e soprattutto dedica speciale a voi e soprattutto a quello che volete di cui io parli andatemi il link con super grazie e ne parliamo e come e vi dedicherò appunto il video adesso ascoltate un po seriamente parlando mattarella in realtà cosa è che sta facendo ora da presidente della repubblica essendo appunto presidente della repubblica che fa cerca di evitare uno scontro magistratura governo che è molto pericoloso appunto per la democrazia ed è pericoloso per la repubblica e invece no sbaglia perché lui non è che lo dico io sbaglia perché lui dovrebbe andare a difesa del governo deve difendere la meloni deve difendere questo governo deve difendere il parlamento ma che film avete visto che cos'è shampoo avete usato alle erbe l'avete utilizzato entrato bene neuroni allora scusate ma voi vedete mattarella presidente della repubblica che si schiera contro la magistratura e da ragione invece alla donna meloni alla presidente meloni a una persona ragazzi non è che sono tutti ma anche pertini faceva ste robe pertini per quanto era tosto e si faceva rispettare cioè per dire poteva anche mandare a fare proprio dire vaffa a te che nessuno gli diceva niente nessuno aveva il coraggio di dire niente a pertini questo è mattarella molti dicono che si ringrazia salvini ironicamente perché ha rivoluto lui ha pressato lui affinché ricevesse il secondo mandato figa parliamo più tardi di questo scontro ora di mattarella contro il governo che non si sente difesa dal presidente della repubblica stesso a più tardi